Un incendio ha distrutto la notte scorsa gran parte delle baracche fatiscenti, in cui alloggiano da alcuni anni circa 200 persone di varia nazionalità a Rignano Garganico, sobborgo di Foggia. Per fortuna nessuno dei residenti è rimasto ferito. Quattro persone hanno accusato un lieve malore, ma ora stanno bene. Ancora da accertare le cause del rogo, indagano polizie e carabinieri. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco giunte da Foggia. La zona è stata bonificata questa mattina. Il fuoco è divampato in una delle baracche e si è propagato rapidamente. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le bombole di gas usate nella baraccopoli esplodessero. Al momento non si sa dove potranno essere ospitati gli abitanti del ghetto.